Abbandonati in aeroporto a Shanghai perché viene loro vietato l'imbarco. 71 ai cagnolini che i loro accompagnatori non hanno esitato a lasciarsi alle spalle pur di saltare sull'aereo e tornare in patria. In questione un volo dell'aeroflot per riportare a casa dei cittadini russi. Trattandosi di un charter non era possibile effettuare in anticipo le prenotazioni per gli animali. Al momento della loro registrazione in aeroporto la compagnia ha però detto no a tutti quanti. Troppi 71 cani soprattutto a fronte di appena 39 accompagnatori e anche per un aereo della taglia di un Boeing 777. E' abbastanza da alimentare il sospetto di un contrabbando di massa. Semplici ipotesi al momento ma alimentate dal fatto che diversi passeggeri non erano i proprietari degli animali.